Salve a tutti amici e bentrovati. L'Italia continua ad essere divisa da due fattori principali, dunque anche le nostre zone di conseguenza, l'alta pressione di origine nordafricana e correnti umide e instabili che cercano di portare, di rinnovare l'instabilità atmosferica che tuttavia sulle nostre zone sta di nuovo cominciando a scemare perché l'anticiclone africano prende di nuovo coraggio e il tempo torna gradualmente più tranquillo e soprattutto tornerà piuttosto caldo perché il tempo, abbiamo detto, a parte un po' di variabilità, qualche annuvolamento pomeridiano sui monti, ripeto, torna a stabilizzarsi per l'effetto di questo anticiclone nordafricano che non ha nessuna intenzione di abbandonare l'Italia e continua a dispensare stabilità atmosferica ma soprattutto temperature bene al di sopra della media stagionale. Questo sarà il trend del tempo anche dei prossimi giorni perché almeno fino a sabato e domenica non ci sono assolutamente cambiamenti all'orizzonte. Cambiamenti potrebbero essercene con l'inizio della nuova settimana quando una massa d'aria piuttosto fredda dal nord Europa potrebbe rompere finalmente sull'Italia e interessare anche le nostre zone portando a parte anche già qualche nota di instabilità in più soprattutto un generale ed importante calo delle temperature. È solo un'ipotesi che in questo momento i centri di calcolo ci propongono, abbiamo chiaramente bisogno di ulteriori conferme. Intanto teniamoci stretti questo caldo e questo tipo di tempo moderatamente variabile. Per adesso è tutto amici, grazie per essere stati con noi a più tardi.